Cari Giacal, quante cose pensate di sapere sul popolo italiano? Come... Lo sai che nel 2008, dieci anni fa, eravamo 59 milioni. Lo sai che nel 2014 eravamo 61 milioni? Ah, si mi ha montato, mi fa piacere. Lo sai che la popolazione italiana oggi è composta da 60,5 milioni di persone? Abbiamo perso 400 mila persone. E sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. Lo sai che la speranza di vita alla nascita per i maschi è di 80,6 anni e per le femmine 84,9 anni. Cinque anni in più. Cioè, poi qual è il motivo per cui gli uomini muoiono prima? Fatto molecolare biologico? Stiamo facendo un altro scherzo a Ciro. Lo sai che il 95% cuoce con olio d'oliva o grassi vegetali? Cioè, questi sono andati a casa delle persone a dirgli scusate, mettete l'olio, mettete l'olio. Ah, c'è un campione. Cioè, chi vince dice se cucina con l'olio. Un campione, immagino, di tot persone. Comunque. Lo sai che il 91,4% dei viaggi sono per vacanze? Lo sai che il 38% non prenota. Siete malati? Questo è sempre il campione che non prenota. Cioè, vai là. Buongiorno, io sto qua. E chi le dice? Noi ci abbiamo posto. Noi, voglio sto stare a fare vacanze. Lo sai che il mese dell'anno in cui in media muoiono più italiani è gennaio? Sono nato a gennaio, 2 gennaio. Al pensiero che ora inizia un altro anno. No, e chi ce la fa? Infatti, gennaio 2019, vi saluto. Il 41% degli italiani usa internet per cercare informazioni sanitarie. E non è stupante. Immaginate se internet fosse un dottore vero. Sicuramente sarei io. Questi sono i consigli del dottore internet. Salve, buongiorno dottore. Volevo chiedere, sono un paio di giorni che ho questo prurito dentro al naso. C'è un live fastidio dentro al... Il muore alla prostata. La prostata? E come è collegato? Scusate, ma non mi vuole molto! Ma lei, dottore, non mi vuole molto! E anche questa ricerca è andata a buon fine. I consigli del dottore internet! Andiamo avanti. Lo sai che ci sono 751.000 vedovi e 3,7 milioni di... Abbiamo capito, gli uomini muoiono prima. Tutto a posto, va benissimo così. Sì, ma mi sto preoccupando. Sono nato a gennaio, sono uomo. Lo sai che il mese in cui muoiono in media meno italiani è settembre. Torni dalle vacanze, rilassato, ottimista. Inizi a fare la dieta, tutte quelle cose belle. Poi ottobre inizia a fare un po' meno. Novembre inizia il maltempo, quindi le piogge. A dicembre sai che parende tutto un mese, Natale e a gennaio... ...muori. Non è il suicidio, è lasciarsi andare. Comunque, è finito. Che cosa abbiamo capito da questo esperimento? Allora... Abbiamo imparato che non importa che tu prenoti le vacanze se usi l'olio d'oliva per cucinare. Ti chiami Francesco o sei nato a gennaio. L'importante è che se sei uomo italiano, muori prima. BAH! 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 BAH!